Dal libro Dottrina di Salvezza, volume 3 Joseph Spildin Smith, capitolo 15 Apostasia dal regno dei ultimi giorni L'apostasia nella Chiesa La Chiesa circondata da influenze apostatiche A causa dell'amore per le cose del mondo e dell'allettante influenza del potere delle tenebre, noi, cioè il popolo cristiano in generale, ci siamo allontanati dall'angusto sentiero che conduce alla vita e che, come ha detto il nostro Signore, pochi uomini trovano perché la quasi totalità di essi ama più le tenebre della luce essendo le loro opere malvagie Noi abbiamo permesso alle filosofie dei uomini che negano la divinità di Gesù Cristo e deridono le sacre ordinanze evangeliche di entrare nelle nostre scuole, negli affari e nelle nostre case minando così la nostra fede e il nostro rispetto per il Creatore Abbiamo dimenticato che l'uomo è stato creato a immagine di Dio che le scritture dichiarano che noi siamo la sua progenie e che ci ha ordinato di cercare prima di tutto il suo regno e la sua giustizia Noi, santi degli ultimi giorni, abbiamo ricevuto il Vangelo restaurato e abbiamo fatto un'alleanza con il Signore secondo la quale lo serviremo e lo riconosceremo come il Dio di questa terra Nonostante ciò, io voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che le usanze del mondo hanno preso piede fra noi e stanno facendo proseiti fra il popolo di Sion Proprio qui, in questa città, Salt City, che un tempo era veramente una città di santi ma che ora non lo è più Si possono trovare tutte le specie di abominazioni e iniquità Le idee, le teorie, le mode e l'impietà dei uomini i loro peccati e le loro pratiche malvagie si trovano entro i confini delle nostre città I santi devono stare in guardia contro le influenze terreni Se non stiamo in guardia, siamo in continuo pericolo Questo popolo, le cui solenne alleanze prevedono l'osservanza dei comandamenti del Signore è minacciato dai peccati e dalle abominazioni terreni di questa generazione e molti di noi sono soggetti ad essere fuorvianti se non stanno allerta e non si proteggono con il mezzo a loro disposizione Noi siamo stati chiamati fuori dal mondo per entrare nel Regno di Dio e pur stando nel mondo non siamo del mondo nel senso che non abbiamo alcuna necessità di prendere parte alle sue usanze alle sue mode e dalle sue follie alle sue false dottrine e teorie che sono in contrasto con lo spirito di verità Oggi è il giorno di riposo e tuttavia in questa città i teatri, i cinematografi e i luoghi di divertimento funzionano a pieno ritmo come fanno ogni domenica dell'anno Questa è la dimostrazione dell'egoismo degli uomini e del loro disprezzo per il comandamento del Signore di osservare la sua legge e di santificare il suo santo giorno Noi non siamo afflitti soltanto da queste tentazioni ma da molte altre e se non ne siamo consapevoli c'è pericolo che perdiamo lo spirito del Signore e che cadiamo nel peccato anche noi col cedere alle piccole tentazioni Ma le piccole cose portano a quelle più grandi e passo per passo veniamo trasportati lontano da quello che è bene e giusto e da poco a poco diveniamo ciechi alla verità Il Signore ci ha chiesto di essere persone ragionevoli non eccessivamente dediche a grandi risate alle privolezze e dalle leggerezza ma dedite invece alla riflessione sulle cose del suo regno affinché possiamo essere preparati in tutto per capire le glorose verità del Vangelo e per ricevere le benizioni future Le condizioni moderne favoriscono l'iniquità Riflettendo su queste cose mi sembra che forse oggi per l'uomo è un po' più difficile essere retto di quanto non lo fosse in qualche altro periodo della storia del mondo Ho questa opinione a causa delle moderne condizioni con tutte le insidie e i mali cui ora ci troviamo esposti dappertutto Stando così le cose allora i santi degli ultimi giorni dovrebbero essere un po' più devoti un po' più diligenti e cercare il Signore un po' più seriamente affinché possano mantenersi liberi da tutti i mali che oggigiorno sono così diffusi Il fatto di essere battezzati e di essere membri di buona reputazione della Chiesa non ci assicurerà la salvezza I mali possono ricadere su di noi perché il Signore ci ha così ammoniti Perciò che la Chiesa faccia attenzione e preghi senza posa per tema di cadere nella tentazione Nei periodi di prosperità si dimentica il Signore Nei periodi di prosperità quando siamo in pace quando abbiamo sia i lussi che le cose necessarie della vita può darsi abbiamo la tendenza a dimenticare il Signore Sembra che questa sia una debolezza dell'umanità Le Sacre Scritture ci dicono che questo è avvenuto in tutte le epoche sia in Palestina che in questo continente quando i popoli erano prosperi dimenticavano il Signore essi si allontanavano da Lui e si sentivano indipendenti anziché sentir lo spirito d'umiltà e riporre la fede nel Signore ringraziandolo per le sue benedizioni il peccato di ingratitudine è uno dei più diffusi e potrei dire uno dei più grandi da cui si afflitta l'umanità più il Signore ci benedice meno noi lo amiamo questa è la maniera in cui gli uomini dimostrano la loro gratitudine al Signore per la sua misericordia e le sue benedizioni seguite la Chiesa non il mondo moltissimi membri della Chiesa evidentemente non si rendono conto dell'importanza delle benedizioni che riceviamo nei templi del Signore io vorrei che tutti amassimo il Vangelo al punto da essere pronti a far qualsiasi cosa che ci chieda il Signore indipendentemente da quello che il mondo pensa o fa perché i santi degli ultimi giorni non possono attenersi alle regole e alle norme della Chiesa con sforzo unito malgrado quello che il mondo fa o pensa alcuni di noi hanno l'abitudine di seguire quello che fa il mondo ci vestiamo come veste il mondo cerchiamo i suoi piaceri seguiamo le sue usanze e io non ho alcun dubbio che queste cose ci mettono in conflitto con le cose che il Signore ci ha insegnato e comandato di fare occhi e credenze anche nella Chiesa quando scopriamo con quanta tenacia i membri della Chiesa malgrado tutto quello che è stato scritto si attaccano a futili nozioni dovremmo provare un po' di comprensione per quelle persone cui vengono impartite nozioni stravaganti e le sciocche tradizioni del mondo l'apostasia leghe con le catene delle tenebre spirituali l'uomo che accetti la luce della verità e poi se ne allontani perde quella luce che aveva e se prosegue in quella direzione alla fine si troverà legato dalle catene delle tenebre spirituali man mano che la verità va offuscandosi il suo posto viene preso dalle tenebre e l'uomo alla fine perde la conoscenza delle cose spirituali colui che cammina nella luce della verità riceve quest'ultima in misura sempre maggiore finché non viene glorificato nella verità divina cioè la verità che salva parlare degli unti del Signore gli uomini empi diffamano le autorità della Chiesa è cosa grave per qualunque membro di questa Chiesa alzare la voce contro il sacerdozio o mancare di rispetto al sacerdozio è grave perché i responsabili non saranno ritenuti senza colpa dal Signore così egli ha promesso e così adempierà sembra essere retaggio degli empi dei intolleranti e di coloro che amano l'iniquità sedersi in giudizio ed atteggiarsi ai dittatori dicendo quello che dovrà essere fatto e detto dall'autorità della Chiesa essi accusano i fratelli di ogni specie di iniquità di dissimulazione di menzogna cercando di provocare una divisione tra le autorità medesime e il popolo cui esse presiedono gli empi si arrogano la prerogativa di dire quale dovrà e quale non dovrà essere la dottina della Chiesa quale dovrà e quale non dovrà essere il governo della Chiesa quando ciò non è cosa che li riguardi minimamente i membri della Chiesa che criticano i fratelli incolleranno nel castigo ma non è questa ma non è a questa categoria di persone che io desidero riferirmi in particolare ma a quei membri della Chiesa che sono entrati nelle acque del battesimo ed hanno fatto atleanze al cospetto del Signore secondo le quali essi osserveranno le sue leggi e rispetteranno il suo sacerdozio e sono stati persuasi o stanno correndo il pericolo di essere persuasi da questa gente di quando in quando allorché un uomo commette un peccato e perde lo spirito del Vangelo alza la voce contro le azioni delle autorità che presiedono alla Chiesa le chiama in causa le giudica e le condanna io desidero ammonire tutti coloro che appartengono alla Chiesa stessa che farebbero meglio pentirsi e avvolgersi al Signore per tema che i suoi castighi li colpiscano che perdano la fede e si allontanino dalla verità è grave per un uomo che è un membro di questa Chiesa dire in cuor suo o appartamente che gli uomini che detengono le chiavi del regno hanno peccato quando in realtà non lo fanno causando così ingiusti dissensi i castighi del Signore lo colpiranno egli sarà chiamato in causa dinanzi al Signore verrà scacciato e il suo posto sarà fra i miscredenti e coloro che lo avranno rusingato e incoraggiato ad alzare la mano contro i suoi fratelli si allontaneranno da lui e lo lasceranno solo con la sua vergogna la saggia guida dei fratelli desidero testimonare che Dio ha chiamato questi uomini che egli li ha nominati che egli ha fatto loro le rivelazioni sulla sua volontà e che essi hanno l'ispirazione del suo spirito e che insegnano e guidano questo popolo nella verità questa è la convinzione di ogni santo degli ultimi giorni che abbia il Vangelo nel cuore dal tempo dell'organizzazione della Chiesa quando è mai accaduto che qualche fratello che esercitava lo spirito del Signore abbia insegnato a questo popolo ciò che era falso quando mai qualcuno di essi vi ha detto che doverste fare quello che non è giusto quello che non farebbe di voi cittadini migliori e migliori membri del Regno di Dio voi non potete né lo può alcun uomo in giustizia specificare alcun tempo in cui qualcuno di essi abbia intenzionalmente dichiarato qualcosa contrario ai principi di giustizia e che non mirasse a rendere il popolo migliore in ogni modo e a non spingerlo verso la salvezza sia temporale che spirituale l'offesa e le critiche malvagie non sono di Dio non lasciatevi ingannare da questi mistificatori da questi uomini il cui cuore è pieno di male che dicono le autorità hanno peccato quando in effetti non lo hanno fatto che sono essi stessi schiavi dell'iniquità e cercano di distruggere quest'opera per quel che concerne gli uomini che tentano di abbattere e di distruggere essi non predicano quello in cui essi stessi credono essi non insegnano alla gente ciò che è vero né cercano di mostrarle la via migliore essi ammassano offesa su offesa sul capo delle autorità dei santi degli ultimi giorni ogni qualvolta trovate un uomo che passa il tempo parlando male del suo prossimo cercando di demolire gli altri siete certi che quell'uomo non possiede lo spirito del signore ma allorché un uomo cerca di elevarsi quando cerca di farvi vedere una via migliore anche se può essere tratto un inganno potete sapere che egli è onesto ma non è mai onesto colui che cerca di demolirvi di distruggervi senza offrirvi in cambio qualcosa di meglio insegnate ai bambini a sostenere le autorità nelle nostre case parliamo noi davanti ai nostri figli criticando il vescovo del rione o il presidente del palo o una delle autorità generali diciamo delle cose in presenza loro che non dovrebbero essere dette facciamo osservazioni avventate sui principi del vangelo se lo facciamo allora non alleviamo i nostri figli nella luce della verità ci siamo resi colpevoli di queste piccole colpe nella casa ed abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli a fare qualcosa di diverso da quello che facciamo noi se così è faremo un buco nell'acqua in altre parole per essere chiaro insegnate i vostri figli a non bere tè né caffè mentre voi lo fate i padri che fumano cercano di educare i loro ragazzi a non farlo sono funzione non si può insegnare una cosa e farne un'altra ecco l'esempio che si insegna il vangelo il male della liberalità la liberalità porta all'apostasia vorrei per qualche minuto fare qualche osservazione sull'argomento della tolleranza e della liberalità oggi si accenna molto al fatto che si deve essere tolleranti e liberali penso che il mondo non saprà mai quanti reati sono stati commessi per l'interpretazione errata di questi termini e i malintesi sorti su di essi satana è molto liberale lo è in maniera estrema purché possa convincere le persone ad agire male e a evitare la verità egli è pronto a insegnare ogni specie di teoria o di principio o di dottrina che non siamo conformi che non siano conformi alle cose fondamentali della vita cioè al Vangelo di Gesù Cristo egli è anche disposto a insegnare qualche verità se può unire quelle verità all'errore e insegnando l'errore insieme alle verità condurre gli uomini fuori strada questo è quanto ha di liberale e questa è la maniera in cui ebbe origine l'apostasia nella chiesa primitiva il tollerare la menzogna porta all'apostasia tolleranza non significa indulgenza io credo che talvolta si faccia confusione fra queste due parole non dobbiamo divenire così tolleranti da rovesciare i principi fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo mi è stato riferito di un uomo che credo fosse in missione il quale ha dichiarato che in quest'epoca illuminata alla chiesa di Gesù Cristo dovrebbe accantonare l'idea meschina che il battesimo nell'acqua per la remissione dei peccati è essenziale per la salvezza e che a questo proposito dovremmo avere una mente più aperta un altro uomo con idee analoghe ha affermato sempre secondo quanto mi è stato riferito che dovremmo cessare di credere nel Dio antropomorfo dobbiamo smetterla di pensare a Dio fatto come l'uomo egli si beffava di questa idea dicendo si può adorare un Dio che deve mangiare dormire farsi il bagno naturalmente pensando a Dio come una persona e a immagine della quale siamo stati creati non dobbiamo necessariamente ritenere che egli debba uniformarsi a tutte le condizioni dell'esistenza mortale alle quali noi nelle condizioni attuali siamo costretti a soggettarci ma c'è qualcosa di male o di strano nel pensare a un Dio che mangia egli mangiava e ci ha promesso che mangerà di nuovo cosa c'è di male in questo egli fa il bagno per lo meno nel fuoco come egli stesso dice noi siamo alla sua progene ed egli ci ha comandato di servirlo nel nome del suo unigenito Pivolo la salvezza e le benizioni derivano dall'osservanza della legge inoltre sappiamo perché c'è stato rivelato che a tutti i regni è stata data una legge e fra essi c'è anche il regno di Dio a questo proposito esso non è qualcosa di diverso da tutti gli altri regni e egli stesso ha detto e ad ogni regno è stata data una legge e a ogni legge sono fissati certi limiti e condizioni tutti gli esseri che non si tengono a questo a queste condizioni non sono giustificati e il Signore è molto tollerante tuttavia dichiara che siamo vincolati dalla legge e se la violiamo non siamo giustificati e dobbiamo rimanere per sempre impuri dire che il battesimo non è essenziale per la salvezza equivale a dire che non è essenziale la legge di gravità o addirittura che essa è inutile io credo nella tolleranza e credo anche che questa virtù mi insegnerà a osservare la legge in maniera costante e non a trovare delle scuse per le mie cattive azioni dicendo che sono liberale io sono appagato e so che il regno di Dio è governato da una legge precisa che non può essere discursa non la si può cambiare perché diveniamo moderni e diciamo di essere liberali secondo le interpretazioni che alcuni danno alle parole liberalità e tolleranza rimane il fatto che se vogliamo ricevere il regno di Dio e entrare nella sua esaltazione dobbiamo ottemperare alle sue leggi fondamentali cioè alle leggi sulle quali quel regno è fondato noi le abbiamo noi siamo i difensori di questi principi essi sono affidati alla nostra custodia ma benedetta sia la vostra anima il mondo intero dovrebbe venire a noi con inni di gioia eterna cantando il suo osanna ed abbracciando la verità eppure talvolta io mi chiedo se noi non accentuiamo un po' troppo il fatto che il mondo oggi ci accoglie con gentilezza non complimentiamoci troppo con noi stessi per il fatto che l'opposizione contro i noi è poca io scorgo in questo un pericolo ma continuiamo ad osservare i comandamenti del Signore in umiltà e in verità e a insegnare alla gente i principi giusti attirandola a noi con l'esempio della nostra vita oltre che con i nostri precetti gli sbaghi e il ballo il pericolo delle sale da balle pubbliche io credo che sia necessario che i santi si divertano ma il divertimento deve essere quello giusto io non credo che il Signore intenda e desideri che noi assumiamo un aspetto di scontentezza e di falsa devozione o di ipocrisia penso che egli voglia che noi siamo felici e che il nostro aspetto sia quello di persone allegri quello che egli non vuole è l'abbandono di un comportamento chassoso e disdicevole o che si vada in cerca delle cose sciocche e vane che divertono il mondo per il nostro stesso benessere eterno egli si ha comandato di fare il contrario io deploro il fatto che questi balli moderni alcuni dei quali hanno avuto origine in posti disgustosi siano giunti fino a noi e deploro oltremisura il ballo pubblico perché secondo me per i suoi risultati perniciosi cioè la distruzione dei buoni principi morali e della virtù è seconda soltanto all'abitudine di frequentare i bar questo male sta diffondendosi e radicandosi nei pali di Sion e nelle comunità dei santi degli ultimi giorni oggi giorni si balla troppo in alcune comunità si balla una o due volte alla settimana il che non è bene per quanto innocenti possano essere questi balli nelle sale da ballo pubbliche che sono gestite allo scopo di lucro è permesso entrare a chiunque senza criterio morale di discriminatore bastando il pagamento del biglietto dell'ingresso questa è un'usanza pessima che i membri della chiesa non dovrebbero tollerare degli insediamenti che sono sotto il controllo loro controllo la vita moderna incoraggia la ricreazione immorale il mondo sta andando alla deriva in base ai segni dei tempi riflettendo sulle cose che mi vengono sottoposte all'esame io non credo che questo mondo stia migliorando non lo credo neanche per un momento credo invece che stiamo andando alla deriva oggi si tollerano molte cose che vent'anni fa non avremmo tollerato neppure per un attimo sono sorti nuovi problemi che dobbiamo affrontare e che nei giorni della mia giovinezza non avremmo neppure sognato oggi nel mondo abbiamo dei mali da combattere che sono dovuti alle moderne invenzioni scoperte come il cinema le allegre brigate in automobile e i rapidi mezzi di trasporto di località in località usati quali mezzi di ricerca del piacere sia nelle ore del giorno che in quelle della notte il cinema dovrebbe essere un mezzo per educare e distruire la gente per insegnarci la storia la geografia e la scienza con grandi vantaggi se propriamente presentate invece esso è nelle mani di persone prive di scrupoli che distribuiscono al pubblico un diluvio di materiale orribile che eccita la passione e gli istinti più bassi dell'uomo i genitori devono controllare i divertimenti dei figli io credo che i genitori di Israele dovrebbero proteggere i loro figli essi dovrebbero vigilarli più attentamente dovrebbero fare più attenzione a loro educandoli con più cura nei principi del Vangelo sia con il precetto che con l'esempio non si dovrebbe permettere ai propri figli di andare senza un accompagnamento adeguato nei luoghi di divertimento indipendentemente dal luogo in cui tale divertimento è tenuto o dal suo grado di innocuità ai nostri figli si dovrà insegnare e distinguere il bene dal male altrimenti non sapranno capire perché non è consentito loro di abbandonarsi a pratiche comune ai loro amici se non si istruiscono nelle dottrine della chiesa essi probabilmente non capiranno il male che può esserci in un concerto domenicale in una rappresentazione teatrale domenicale o nel frequentare di domenica le sale cinematografiche i campi da gioco ed altri luoghi del genere in generale i genitori hanno il dovere di insegnare le cose buone ai loro figli il Signore condannerà quei genitori che lasciano crescere i figli fuori dall'influenza dei principi del Vangelo io voglio vedere la rettitudine per levare in tutta Sion non è affatto necessario che partecipiamo a tutte le istanze del mondo dovremmo fare un po' più di attenzione alle cose del Regno di Dio noi viviamo nei ultimi giorni in cui come è stato predetto verranno i tempi difficili questi tempi difficili sono qui e tale fatto dovrebbe indurci a serie riflessioni il Vangelo permette il riso e la gaiezza da questa scrittura non dovremmo trarre l'idea che il Signore sia scontento di noi se ridiamo se siamo allegri purché ciò accada nei momenti giusti e gli ha detto tuttavia che nelle nostre solenni assemblee cose come la leggerezza il riso e la gaiezza sono fuori posto noi dovremmo far cessare i discorsi leggeri le risa i pensieri e i desideri iniqui e in genere tutto quanto può sminuire insegnamenti e l'influenza dello spirito del Signore i mali del gioco delle carte la chiesa condanna ufficialmente il gioco delle carte tutti i giorni della nostra vita ci è stato insegnato che il gioco delle carte non è bene che esso è contrario all'ordine ed alla disciplina della chiesa le autorità hanno esortato il popolo e lo si legge anche nelle nostre ribiste ad astenersi da questa pratica iniqua malgrado a ciò tra noi si trova ancora qualcuno che considera il gioco delle carte un passatempo molto innocente esso non è innocente bensì molto dannoso i membri che si accompiacciano di questo male dimostrano di non obbedire ai consigli del signore ed anche se non mi vogliono raggiungere altro tale male è quantomeno una gravissima perdita di tempo che potrebbe essere impiegato in qualche occupazione migliore io sono per la ricreazione nello sport per il divertimento nei esercizi del corpo e della mente e sono anche per i giochi che entrino in questa spera specie quando sono praticati al momento opportuni soprattutto da quelle persone il cui lavoro è tale da non consentire loro di fare esercizio fisico io non credo che si possa in qualche modo sbagliare nell'assenersi di fare quelle cose che condannate dalle autorità della chiesa poiché esse si danno i consigli che ricevono attraverso l'ispirazione dello spirito del signore i santi degli ultimi giorni dovrebbero riporre fiducia nei loro dirigenti e seguire gli insegnamenti delle autorità della chiesa perché esse parlano loro con la voce delle profezie e dell'ispirazione il gioco d'azzardo una malattia grave dal gioco d'azzardo non deriva niente di buono ci sono innumerevoli manieri in cui possiamo procurarci di sostenere distrazioni sia per il corpo che per la mente nei giochi con le carte generalmente c'è della posta in gioco e si fanno le scommesse qualcuno vincerà la posta in gioco ma in realtà nessuno vince perché chi vince la posta in gioco ha perduto una parte della sua abilità che è difficile da riconquistare nella natura umana sembra esserci uno stimolo che induce molti uomini e donne a cercare di avere qualcosa per niente e molti hanno deposto le loro sostanze guadagnate con tanta fatica sull'altare del rischio sperando di vincere una fortuna che non hanno guadagnato in tutti i giochi d'azzardo c'è un'esca che satana mette davanti agli uomini i quali nella loro cupidigia o nell'insano desiderio di guadagno abboccano l'incerta esca molto meno innocentemente di quanto non facciano i pesci nei giochi d'azzardo si usano le normali carte da gioco esse si trovano in locali di dubbia fama e nelle sale da gioco troppo spesso i giovani che con intenzioni innocenti hanno imparato a giocare a carte a casa proprio nei circoli ricreativi sono attirati in luoghi dubbi dove predomina il gioco d'azzardo che è generalmente associato al fumo all'alcol ecc il gioco delle carte diviene un'abitudine così come il fumo e il bere ricordo un mio vicino di casa che all'inizio era dedito al gioco d'azzardo più tardi nella sua vita si pentì e si unì alla chiesa un giorno davanti a un gruppo di persone di cui facevano parte anch'io egli enfaticamente impresse nella nostra mente il fatto che il gioco d'azzardo è una malattia che entra così tenacemente in coloro che vi si abbandonano che raramente essi se ne liberano la sua influenza sul carattere è come quella del tabacco e delle bevande alcoliche egli consigliò enfaticamente tutti di tenersi lontani dalle carte e dai giochi d'azzardo per non esserne distrutti Brigham Young ammonisce contro il gioco delle carte il gioco delle carte e tutti gli altri giochi d'azzardo dovrebbero essere guardati come si guarda una cosa orribile ruminosa annientatrice le autorità della chiesa ci hanno messo in guardia sin dal principio della nostra storia quando il battaglione mormone fu chiamato al servizio del paese il presidente Brigham Young in suo discorso ai volontari disse che egli desiderava che essi dessero prova di essere i migliori soldati al servizio degli Stati Uniti egli esortò gli ufficiali superiori ad essere dei padri per i loro soldati e a dirigere gli ufficiali e i soldati per mezzo del potere del sacerdozio essi dovevano conservarsi moralmente sani insegnare la castità e la gentilezza non dovevano imprecare né insultare qualcuno dovevano evitare le contese con gli abitanti del Missuri loro nemici e con tutte le altre persone dovevano portare con sé la Bibbia e le copie del libro di Mormon e studiarli ma non imporre il loro credo religioso agli altri dovevano evitare il gioco delle carte e se avevano le carte con sé dovevano bruciarle e gli promise loro che se avessero seguito queste istruzioni non sarebbero stati chiamati a spargere il sangue dei loro signori Joseph Philip Smith condanna il gioco delle carte il presidente Joseph Philip Smith ci ha dato questo valido consiglio benché un semplice gioco di carte in sé possa essere innocuo è un fatto che con l'immoderata ripetizione esso finisce per diventare un'infatuazione un eccesso una perdita di tempo preziosa accompagnato da uno tenebramento o torpore della mente sino alla completa distruzione del sentimento religioso queste sono conseguenze serie mali che dovrebbero e devono essere evitati dai santi degli ultimi giorni inoltre c'è un grave pericolo che si nasconde nel giocare a carte continuamente quello cioè di generare il desiderio del gioco d'azzardo della speculazione e della pretesa pericolosa di avere qualcosa per niente e ancora il gioco delle carte è un piacere eccessivo esso intossica e perciò è un vizio esso è il naturale compagno della sigaretta e del bicchiere di vino e quest'ultimo porta nella sala da biliardo o da gioco pochi sono i uomini e le donne che si dedicano al pericoloso passatempo del gioco delle carte senza compromettere i loro affari e i più alti doveri della vita ditemi che genere di divertimenti preferite e se essi sono stati una passione illuminante nella vostra vita e io vi dirò che cosa siete pochi sono quelli che lasciandosi andare frequentemente al gioco delle carte non ne divengono schiavi l'uomo deve rispondere al signore delle sue parole ed azioni oziose il signore ha detto l'uomo dà bene dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta i uomini renderanno conto del giorno del giudizio poiché dalle tue parole sarai giudificato e dalle tue parole sarai condannato se questo è vero per le parole oziose non potremmo dire che le azioni oziose compiute dedicandoci a cattive abitudini non meriteranno la stessa ricompensa? questo non significa che il signore disapprova il divertimento innocente e il tempo trascorso in giochi sani il corpo umano ha bisogno di rilassarsi e ciò si può fare in maniera legittima in parte è per questo scopo che sono state fondate le associazioni di mutuo miglioramento dove si possono insegnare le maniere giuste di divertimento rafforzando così il corpo e vivicando e sviluppando la mente incoraggiano le attività ricreative sane e giuste e in una delle ore più buie della storia della chiesa quando i stanchi membri della medesima attraversavano le pianure dopo essere stati scacciati dalle loro case il signore per il tramite del presidente brigagliani disse loro se tu sei gioioso loda il signore col canto con la musica con la danza e con una preghiera di lode e di gratitudine se tu sei addolorato fa appello al signore tuo dio con suppliche affinché la tua anima possa ritrovare la gioia le poche volte in cui ne ebbe l'occasione il profeta joseph si dedicò a sport virili il presidente brina young e i fratelli costruirono il zallex theater e la social hall i membri della chiesa potevano divertirsi andando a rappresentazioni teatrali ai balli e altre attività ricreative da cui uscivano edificati e fortificati tutti questi divertimenti si aprivano e si chiudevano con la preghiera le organizzazioni ausiliari incoraggiano i membri a partecipare a gare atletiche e agli sport porti sotto un competente supervisione e nell'osservanza dei relativi regolamenti la nostra gente è incoraggiata non ostacolata a partecipare a ogni specie di attività e divertimento necessari ma tutte le cose che il mondo cerca e che inducono al male come il gioco delle carte le lotterie e l'abbandonarsi al gioco d'azzardo con le macchinette sono disapprovate perché ritenute nocive ai principi morali e alla fede costante in ciò che è giusto e vero il destino degli apostati molti gradi di conversione e di fedeltà se un membro della chiesa dovesse diventare apostato e rinnegare le sue alleanze a quale grado di gloria sarebbe assegnato è impossibile specificare il grado di ricompensa o di castigo che sarà assegnato in ciascun singolo caso di trasgressione o di apostasia non tutti coloro che entrano nella chiesa ricevono la stessa luce e conoscenza perché alcuni rispettino ad altri alcuni rispetto ad altri sono più dirigenti e fedeli nell'osservanza dei comandamenti nella parabola del seminatore il nostro salvatore ci ha dato un eccellente esempio di questo alcuni ottengono una conoscenza e una testimonianza completa della verità attraverso una costante diligenza e obbedenza al Vangelo lo spirito del signore dimora con loro ed essi possono dire veramente di sapere che Gesù è il Cristo e il rentore del mondo altri non ricevono una luce e una testimonianza così grandi perché sono meno dirigenti essi credono che Gesù è il figlio di Dio e riconoscono la verità ma non hanno una conoscenza perfetta delle cose divine è possibile anche che alcuni siano entrati a far parte della chiesa perché hanno trovato le sue dottrine logiche e coerenti ma essi non fanno mai alcun tentativo per ottenere lo spirito del signore altri hanno abbracciato la chiesa con secondi fini questi individui non comprendono mai la luce e raramente rimangono nel gregge perché quando capiscono di non poter raggiungere il loro obiettivo ne sono delusi e si allontano in una delle rivelazioni il signore dichiara agli uni è accordato dallo spirito santo di conoscere che Gesù è il figlio di Dio e che egli fu crocifisso per i peccati del mondo ad altri e accordato di credere le loro parole affinché possano anche essi avere la vita eterna se continuano fedelmente lo spirito abbandona coloro che non si pentono nei propri peccati quando una persona lascia la chiesa quasi sempre ciò è dovuto a trasgressione lo spirito del signore non dimora in tabernacoli impuri e quando lo spirito si ritira la luce subentrano le tenebre e quindi l'apostasia questa è una delle più grandi prove delle attività dell'opera di questi ultimi giorni nelle altre confessioni religiose gli uomini possono commettere ogni specie di peccati e tuttavia conservare la loro appartenenza alle confessioni medesime perché essi non godono della compagnia dello spirito santo ma nella nostra chiesa quando un uomo pecca e continua a peccare senza pentirsi lo spirito si allontana e quando l'uomo è abbandonato a se stesso l'avversario si impossessa della sua mente e l'uomo rinnega la fede anche l'uomo che abbia una perfetta conoscenza della verità e cammini nella luce del santo spirito può diventare un'apostata a causa della trasgressione ma quando si allontana egli ricorda che un tempo possedeva la luce di queste persone il signore ha detto in merito a tutti coloro che conoscono il mio potere e che dopo averlo condiviso hanno sofferto mediante il potere del diavolo di lasciarsi sopraffare fino a negare la verità e a sfidare il mio potere sono quelli i fili perdizione di cui ho detto che sarebbe stato meglio per l'ordine non essere stati mai nati i trasgressori saranno giudicati secondo le loro opere non possiamo aspettarci che il signore distribuisca questo stesso castigo all'uomo che si allontana nella chiesa a seguito di qualche ipotetico torto o equivoco quando tale uomo non ha mai avuto una testimonianza del Vangelo e non è mai stato guidato dallo spirito di verità tuttavia secondo la parola del signore se questo individuo non si pente è escluso dal regno celeste egli aveva avuto la sua occasione ma avendo rifiutato il dono che gli era stato offerto non avrà la ricompensa dei fedeli colui colui infatti che non è in grado di osservare la legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste e colui che non può osservare la legge di un regno terrestre non può sopportare una gloria terrestre e colui che non può osservare la legge di un regno teleste non può sopportare una gloria teleste, ragion per cui non è atto a un regno di gloria e deve dimorare in un regno che non è un regno di gloria. Tutte le cose sono regolate dalla legge e chiunque è incapace restivo ad ottemperare la legge di qualcuno di questi regni non può essere santificato dalla legge che li regola, né per misericordia, giustizia o giudizio. La misura del castigo che vorrà afflitto agli apostoli. Inflitto agli apostoli. Il Signore giudicherà ogni singolo caso ed assegnerà il trasgressore a quel grado cui ognuno ha diritto secondo le sue opere. Se uno merita soltanto di andare nel regno teleste quella sarà la sua ricompensa. Se merita di andare nel regno terrestre allora sarà ammesso in quel regno. Per poter entrare nel regno celeste l'uomo deve essere fedele sino alla fine e osservare tutte le cose che il Signore ha comandato altrimenti sarà assegnato a qualche altro regno oppure alle temere di fuori se i suoi peccati sono tali da fargli meritare questo castigo. Ti ricordi tuttavia che il castigo dell'apostasia indipendentemente da chi egli sia o dal grado di conoscenza dallo stesso acquisito sarà della massima severità. Ascolta e odi o tu mio popolo dice il Signore e tuo Dio voi che prendo di letto a benedire con le più grandi benedizioni voi che mi dite e voi che non volete darmi ascolto pur professando il mio nome vi maledirò con la più terribile di tutte le maledizioni. In relazione a questo argomento sarebbe bene leggere quanto segue Luca 12 versetti dal 9 al 10, 2 Pietro 2 versetti dal 19 al 22, Ebrei 6 versetti dal 4 all'8, Mosia 3 versetti dal 4 al 27, Alma 34 versetti dal 32 al 35. La genealogia degli apostati non dovrà essere conservata. Nel novembre 1832 il Signore disse è il dovere dell'archivista del Signore che egli ha nominato di tenere una storia e un registo generale della Chiesa, di tutto quanto avviene a Sion e di tutti coloro che consacrano ricevono delle proprietà o ricevono realità legalmente dal Vescovo ed anche del loro modo di vivere, della loro fede, delle loro opere ed anche degli apostati che apostatizzano dopo aver ricevuto le loro realità. È contrario alla volontà e al comandamento di Dio che coloro che non ricevono la loro realità per consacrazione secondo la sua legge data per avere la decima dal suo popolo per prepararlo al giorno della vendetta e dell'incendio abbiano i loro nomi iscritti presso il popolo di Dio. La loro genealogia non verrà conservata né registrata in registi o nella storia della Chiesa. Né i loro nomi né i nomi dei loro figli saranno trovati nel libro della legge di Dio, dice il Signore degli eserciti. Coloro che hanno ricevuto la verità e se ne sono allontanati respingendola e negandola se ne rammaricheranno. Io cito questo soltanto incidentalmente perché, malgrado quello che ha detto il Signore, vengono continuamente delle persone per far celebrare nei templi le opere a favore di individui di questa specie. Sarà bene che riflettiate su questo punto. Le persone scomunicate perdono tutte le benedizioni. Quale sarà lo stato di una persona nata nell'Alleanza se viene scomunicata dalla Chiesa? Quando una persona è scomunicata dalla Chiesa, ogni benedizione viene ritirata e per la persona stessa è come se non le fosse mai stata amministrata alcuna ordinanza. Se in seguito questa persona dovesse pentirsi ed essere ritenuta meritevole di rientrare nella Chiesa, allora tutte le benedizioni potranno essere restaurate con l'approvazione e l'autorizzazione di colui che detiene le chiavi, cioè il Presidente della Chiesa. Dovremmo ricordare che tutte le benedizioni si basano sulla fedeltà e che la salvezza è una questione individuale. Noi siamo ricompensati secondo le nostre opere. I membri della Chiesa non sono salvati collettivamente.